Che bella la domenica mattina dopo un acquisto del Milan. Buon pranzo a tutti, Capoccio Rossoneri, buon pranzo. Questo è il video quasi interamente dedicato a Tijoni Reinders, praticamente un nuovo giocatore del Milan. Ieri la trattativa si è chiusa, scambio di documenti. Sarà lunedì a Milano per poi sostenere martedì mattina le visite mediche. Non so se arriveremo in qualche modo a vederlo in amicavole contro il Lumezzane giovedì. Quindi vediamo un po' prima di iniziare, però mi raccomando, Capoccio Mia, non fatemi mai mancare il vostro supporto. Sono contentissimo, il video di ieri sfottò Lukaku, barra, ufficializzazione di Reinders, è andato benissimo, continuate così, pollice in su ragazzi, non fatevi ricordare like perché è la cosa più importante per mandare, tra virgolette, in sponsorizzazione un video, farlo vedere a quante più persone possibile, farlo arrivare magari in società, che possano in qualche modo ascoltare i nostri consigli. Detto questo, iscrivetevi al canale, raggiungiamo i 5.000 nel minor tempo possibile, correte prima di iscrivervi ai canali di due canali amici, dove è Betty, io si piosa, con cui condivido l'angolo rosso-nero, e andate sul canale di Alvin Perrone, mio amico interista. Ieri sono stato ospite in una sua live insieme ad un altro nostro amico, Black Blue, quindi andatevi ad iscrivervi ai loro canali, abbiamo parlato di tutto, di Lukaku, sono andato un po' a consolarli i poverini, noi milanisti, che purtroppo, ahimè, di tradimenti, ultimamente ne abbiamo visti tanti. Allora, come sempre faccio di consueto il video presentazione di Reinders. Chi è TG di Reinders? Lo faccio sempre, ma lo faccio soprattutto perché molti, sia tifosi interisti che milanisti, che hanno commentato le mie dirette, non conoscevano questo giocatore. Allora, ragazzi, devo essere sincero, prima che il Milan si interessasse a questo giocatore, né io, né il mio amico Joe, lo conoscevamo bene. Avevamo visto, sapete, di sfuggita durante l'anno, quando, insomma, uno guarda gli highlights dell'Europa League, vari gol, eccetera, che aveva fatto bene, aveva segnato al West Ham, aveva fatto golli importanti, da quel punto hanno detto, quando la tratta viva è entrata nel vivo, sono andato a documentarmi. Ho visto numerosi video di canali rossoneri come lo zoccolo duro, che afferma, insomma, che non sia un regista. Allora, intendiamoci, ragazzi. TG di Reinders alla Z gioca a mediano in un 4-2-3-1, ok? Per antonomasia è uno di quei centrocampisti che viene definito tuttocampista. Se dovessi farvi un paragone per farvi capire meglio chi è Reinders, lo paragona a Coop Maners. Sono quei giocatori che dove li metti stanno. Sono talmente completi che li puoi mettere registri, li puoi mettere mezzala, li puoi mettere trequartisti. Fanno bene ovunque, hanno in qualche modo una formazione completa di tutti quelli che sono i ruoli del centrocampo. Perché proprio TG di Reinders, ragazzi? Perché Pioli vuole calciatori duttili, vuole calciatori che possano consentire anche a partita in corso il passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1, e chi meglio di rendersi. Ragazzi, stiamo parlando di uno stacanovista, stiamo parlando di un giocatore che in stagione ha giocato 54-55 partite, tutte le partite della Zeta, mai sostituito, un media di oltre 90 minuti a partita, praticamente giocatore imprescindibile che dopo sei anni in Olanda decide di fare il grande salto, decide di approdare il Milan. Il Milan che alla fine vince il braccio di ferro perché dovessero confermarsi le cifre uscite ieri da Sky, 19 milioni più 4, però alla fine era l'offerta che il Milan l'ha fatto lunedì, vuoi il giocatore ha spinto tanto, vuoi i familiari hanno spinto tanto, vuoi anche la Zeta abbassato le sue pretese, vuoi soprattutto il giocatore che rinuncia a soldi per venire al Milan a quasi 3 milioni di premi che rispettavano dalla Zeta, rinuncia a parte dell'ingaggio con il Milan, inizialmente si era trovato l'accordo a 1-8, in realtà poi si è chiusa ad 1-6, quindi il giocatore ha deciso di, si era più rotto le palle più di noi, ha deciso di chiudersi, di auto chiudere la trattativa da solo di autocomprarsi, sono questi comunque i gesti che fanno capire quanta voglia di Milan ci sia da parte di questi giocatori, soprattutto quando il Milan va in Olanda, pesca facile perché molti giocatori sono cresciuti poi nella leggenda del Milan degli olandesi, hanno magari visto DVD, eccetera, 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 quindi allora, è un calciatore che secondo me nell'idea di Pioli verrà inizialmente nel 4-3-3, verrà messo regista, verrà messo regista perché è un calciatore che ha ottimi tempi di gioco, regia sopraffina, ottima verticalizzazione, un ottimo tiro da fuori. Sarà divertente, curioso vedere poi come Pioli si comporterà con il rientro di Belasserre, perché dico questo? Perché a quanto vedo, il Milan vorrei impostare un centrocampo a 3 con un regista tuttocampista, come l'era anche il nostro Belasserre, addirittura rispetto a Belasserre, Tiziani è più fisico, 1,85 m ed è anche secondo me più tuttocampista, nel senso che ricopre più zone di campo, non so se avete visto la sua mappa di calore, ma fa paura, è rossa praticamente in tutto il campo, questo sta ovunque. Ha giocato, oltre che da mediana a 2, nella Z anche mezzala, ecco perché alcuni lo vorrebbero mezzala. In realtà poi, come ho detto, con il rientro di Belasserre, si creerà quello che, per farvi un paragone, rimanere in Italia, all'Inter c'era con Brozovic e Celanoglu, questi due fonti di gioco, che si interscambiano costantemente, non dando punti di riferimento all'avversario. Questo è molto, ma molto importante, perché abbiamo visto spesso l'Inter, quando gli mancavano tra Brozovic e Celanoglu, andava in difficoltà, perché aveva una sola fonte di gioco in quel caso. Per quanto riguarda Reinders, io credo che non sia un calciatore da aspettare tanto, mi espongo in questo, un calciatore del 98, è un calciatore che comunque si ha giocato in Europa League, ha fatto bene, fa bene da parecchi anni in Olanda, è un calciatore che fa, secondo me, il salto nel momento giusto, magari non lo anticipa, come ha fatto De Keterare, o Echiti Ké, per nominarvi un calciatore, entrato in orbita Mila, ne andremo a parlare. Per quanto riguarda Reinders, ragazzi, io sono molto felice del colpo, perché l'abbiamo chiuso alle cifre giuste, l'abbiamo chiuso alle cifre che volevamo, si parla di 19 più 4, 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili, legate alle presenze, 2 milioni di bonus difficilmente raggiungibili, legati a premi di squadra, e a numero complessivo di golle assist, mi lascia tanto felice il suo acquisto, il Milano, come ho detto prima, vuole i calciatori eclettici, che possono anche cambiare, in corso d'opera, dal 4-2-3-1 al 4-3-3, mi riferisco anche ai recenti interessamenti per Dan Yuma, al voler Echitike, insomma, giocatori che possono ricoprire più ruoli, perché Dan Yuma può fare l'esterno sinistro, l'esterno destro, la punta tipica, molte volte la ricoperta al Villareal, andandosi a interscambiare con Jackson in maniera costante, cosa che potrebbe avvenire con Leao al Milan. Ci stiamo muovendo in maniera intelligente, ragazzi, chiuso rendersi, chiuso questo giocatore importante, che fa della regia la sua principale arma, detta ai tempi, a modo suo, molto rapido, l'unica pecca, tra virgolette, riguarda i tackle, riguarda, insomma, i movimenti difensivi, che comunque potrà perfezionare, e secondo me ne gioverà anche in un passaggio al 4-3-3. Detto questo, ovviamente stiamo parlando di un giocatore che non è mezzala, e che può fare regista, ragazzi, ma è un regista, è un metronomo, che poi è talmente completo come Coop Maners, che dove lo metti sta, ti fa la mezzala di fatto il cortista, come ho detto in inizio video. Quali saranno le mosse del Milan in questo momento, dopo Coop Maners, scusate, dopo Reinders. Allora, sembra che sia entrato in orbita il Milan, e chi dichiata il PSG, giocatore che è stato preso l'anno scorso, classe 2002, mi sembra dal Reims, ora non mi ricordo bene, è un giocatore che forse si è spostato troppo presso, nella big di Francia, è un calciatore che a me personalmente piace tanto, soprattutto se sono vere le voci messe in giro da giornali autorevoli francesi, secondo cui il PSG chiederebbe una cifra più o meno di 20-25 milioni, e quelle cifre secondo me lo fai tutta la vita, loro l'hanno pagato intorno ai 35 l'anno prima. Mi piace come si sta muovendo, per quanto riguarda la trattativa del Niuma, ragazzi, io credo che sia una sorta di tassa da pagare per Ciukweze, il Milan ne vorrà, proverà a prendere Ciukweze, è uscito anche il nome di Taremi, ovviamente ricordo a tutti che Ciukweze e Taremi, pur essendo ruoli diversi, sono esclusivi, sono alternativi, scusate perché entrambi extracomunitari, ne possiamo tesserare solamente uno. Per quanto riguarda Taremi, ragazzi, è un giocatore a cui di recente si è interessata anche l'Inter, visto la beffa, la beffa, la beffa, Lukaku, madonna se penso, rido, rido tutto il tempo, è un calciatore sicuramente dei numeri importanti, è un calciatore che ha fatto in sette partite di Champions, cinque gol e due assist, è un calciatore che ha fatto 22 gol nell'ultima Liga Portoghese, però ragazzi miei, è un calciatore su cui non investirei una grossa cifra, sicuramente non i 20 milioni, è un calciatore che prendi per cosiddetto tamponare una situazione che in questo momento vede gli attaccanti inavvicinabili per prezzi, basti pensare che Openda è stato comprato dall'Ipsia per 43 milioni più bonus, quasi 50 milioni, ragazzi queste cifre sono folli soprattutto per Openda, soprattutto per questi calciatori che sono buoni, sono futuribili, però ancora hanno dimostrato troppo poco, vengono da un solo anno. La mia scelta, come ben sapete, come ho detto da inizio estate, sarebbe Eli Wai, giocatore del Montpellier, per cui tecnicamente si chiede una cifra intorno ai 35 milioni di euro, è entrato nelle mire del Chelsea, che non sa se affondare il colpo per Colomoni, o andare su di lui, un Chelsea che tra le tante cose ha preso Jackson, un altro giocatore che avevo nominato nel video di inizio mercato, e anche Armando Broia, cioè io vorrei capire cosa cazzo se ne fanno di tutti questi talenti, sono contento per come si sta muovendo il Milan, ho sempre detto, ho sempre invocato la calma per quanto riguarda il mercato, il mio amico Gio lo sa, ero sicuro, anche e soprattutto dopo la cessione di Tonali, che avremmo fatto un buon mercato, perché come ho sempre detto ragazzi, Gerry Cardinale lo possiamo insultare per i modi, per come ha cacciato Maldini, assolutamente sì, però protesta in questo caso, lo possiamo anche criticare per la cessione di Tonali, soprattutto in un anno in cui non avevi neanche benassero, quindi è dovuto rifare al centrocampo prendendo di questo rischio, però ragazzi non gli possiamo dire che è uno scemo, lui è un imprenditore, dove si è messo un messo, è sempre uscito vittorioso, è sempre uscito vincente, lo vorrà fare anche col Milan, e sappiamo benissimo che le tre cose, in cui non deve sbagliare per un ottimo investimento in Italia, sono mantenere la squadra completitiva, chiamare lo stadio, e avere sempre più sponsor, e gli sponsor vanno di pari passo con dei risultati sportivi, abbiamo visto che il Milan ha rinnovato con Puma a 30 milioni, molto più di quanto l'Inter guadagna da Nike, molto più, il Milan ha un main sponsor che ha rinnovato a molti più soldi, di quanto l'Inter prende dal nuovo main sponsor, Paramount mi pare, capite bene che, ragazzi miei, ci stiamo muovendo nella direzione giusta, ora, l'incognita del mercato del Milan riguarda spesso le tempistiche, io sono stato sempre positivo per il mercato del Milan, non riguardo le tempistiche, ecco perché in alcuni video invocavo gli acquisti, soprattutto a centrocampo, perché ragazzi, nell'anno in cui si fa un reparto da zero, è sempre importante avere giocatori quanto prima possibile, soprattutto in questo caso centrocampisti, per poter farli prendere le misure tra di loro, e con la squadra, per poter dettare i tempi nella maniera migliore possibile, per il modo di giocare di step proprio lì, detto questo, il video di Reinder, se novità di mercato finisce qua, fatemi sapere cosa ne pensate, aspetto tanti commenti, fatemi sapere i vostri preferiti d'attacco, chi ancora vorrete vedere con la maglia rosso-nera, detto questo, buon pranzo a tutti, buon estate, ci vediamo prossimamente con un nuovo video, bella raga, grazie ancora. Grazie a tutti.